Il mio rapporto con Usop è un rapporto d'affetto ultradecennale, perché lo doppio veramente da tantissimi anni, per cui è già un rapporto di amicizie, siamo fratelli, fratelli di sangue, quantomeno di voce. All'inizio l'ho studiato, ovviamente, perché ho dovuto imparare a conoscerlo. Ovviamente l'originale è stata una grande risorsa, perché è la prima cosa che noi vediamo nel momento in cui ci approcciamo a un personaggio che dobbiamo doppiare, per cui la voce originale, il suo modo di muoversi, di parlare, il contesto in cui è inserito nell'anime, sono ovviamente tutte fonti di ispirazione. Poi, chiaramente, il tutto viene filtrato dall'attrice o dall'attore che sta interpretando quel personaggio, per cui ovviamente c'è anche tutta una parte assolutamente mia di coloritura che è imprescindibile, perché noi siamo il filtro attraverso cui facciamo parlare i personaggi o le attrici, gli attori, insomma, quello che noi vediamo poi sullo schermo in televisione. Ho doppiato tanti anime, tanti videogame nella mia carriera. L'approccio è sempre lo stesso, di ascolto, di cercare di capire la storia, il personaggio, che poi viene comunque spiegato dalla direttrice o dal direttore di doppiaggio e che poi si scopre man mano quando si inizia a doppiare. Alle volte sono magari personaggi che si conoscono già perché magari si sta doppiando un videogame tratto da una, non so, da dei romanzi o da una serie tv o da dei film, per cui magari è qualcosa che già si conosce, oppure come era stato nel caso di Usup quando ho iniziato a doppiare One Piece, era totalmente stata una bellissima sorpresa, all'inizio è totalmente sconosciuta, ma che poi è stato un grande regalo perché l'affetto che poi del pubblico che torna indietro non è una cosa molto evidente per chi fa, ovviamente per chi fa doppiaggio, perché un'attrice, un attore di teatro sono abituati ad avere un riscontro immediato, che è quello del pubblico in sala, si sente proprio il calore della gente, si capisce quando man mano che si sta recitando in scena, si sente se il pubblico è attento, se si sta distraendo, se ci sono dei cali di tensione, l'applauso poi è ovviamente il punto massimo, soprattutto se si fa qualcosa di comico, la risata, sono delle cose estremamente gratificanti nel momento in cui si sta lavorando. quando si è nel buio di una sala, tutto questo non succede, possono esserci complimenti di chi sta dall'altra parte, del gruppo di lavoro, che fanno comunque sempre piacere, e non sono così tanti alle volte, perché ci si dimentica di fare un complimento, per cui le volte che si ha la possibilità di incontrare veramente le persone che sono affezionate, in questo caso a One Piece, è un grande piacere, perché sapere di aver accompagnato qualcuno negli anni, beh, insomma non è una cosa così comune, e quindi è un bel boomerang che torna di affetto, il mio attraverso per il personaggio, quello del pubblico nei nostri confronti, e quindi... Quando si doppia una serie animata, si usa ritmo, tensione, voce, emozioni, si usa tutto, si usa tutto perché è recitare, è il lavoro dell'attore, poi c'è un mezzo che è il microfono, il fatto di dover doppiare qualcuno che sia un anime o che sia un personaggio in carne e ossa, però ci vuole tutto, almeno si cerca di mettere tutto, ovviamente. A me piace molto giocare con la voce, ho fatto nella mia vita tantissimi personaggi con voci estremamente diverse, caratterizzate, perché è sempre stata una cosa che mi ha divertito sin da subito, per cui di solito ci vuole tutto, tutto di più bisogna essere a disposizione, bisogna essere, cercare di essere una specie di tela bianca sulla quale poter poi, in questo caso, nel caso del doppiaggio magari aderire e quindi lasciare che i colori che sono già stati dipinti aderiscano alla nostra tela, che essendo la nostra tela poi avrà delle sue particolarità. Un doppiatore, una doppiatrice usa sempre se stesso, appunto come, ho spoilerato, praticamente me stesso, perché ovviamente tutto passa poi attraverso di noi, no? Non mi ricordo chi dicesse questa cosa, ma parlando del lavoro dell'attore, diceva in scena tu puoi essere qualunque cosa, essere veramente te stesso, essere completamente nudo davanti al pubblico, tanto tutti penseranno che stai facendo quel personaggio. E' una cosa difficilissima, perché ci vuole un'onestà e un'apertura e una... vuol dire essere totalmente vulnerabili. Però c'è questo, diciamo, c'è questo sdoppiamento, no? Del fatto che comunque il pubblico pensa che tu stia facendo qualcos'altro, che quindi ti dà forse una piccola porticina attraverso la quale entrare e mostrarti completamente nudo, essendo completamente coperto. Cioè, il personaggio poi ti riveste, no? E quindi... Si cerca di usare molto di noi. Ovviamente poi magari ci possono essere alle volte dei punti dolorosi nostri come persone, no? Per cui magari c'è un pudore, una difficoltà a esprimere magari una determinata emozione proprio perché è così nostra, così segreta, no? Alle volte diventa una cosa estremamente emozionante, ma a me è capitato alle volte di realmente piangere, doppiando un qualcosa che mi era successo, soprattutto nel precedente film di One Piece. C'è una scena, per cui non spoilore niente perché è già stato visto, dove uso più piange, e io mi ero realmente commosso. Aneddoti curiosi? Un po' l'aneddoto forse sono io, nel senso che io mi muovo molto davanti al microfono, tant'è vero che alle volte vengo redarguito perché senza accorgermene salto, e questo chiaramente il microfono lo sente. Mi ricordo una volta che ero a Leggio con, tanti anni fa, per un'altra serie con Pietro Ubaldi, e il direttore all'epoca poi ha detto che facevamo una specie di danza, perché anche Pietro, io ho imparato tantissimo da lui, è stata veramente una grande fonte di ispirazione quando ho iniziato a lavorare. Lo è tuttora, ma è veramente importante. E diceva che praticamente facevamo una danza silenziosa perché entrambi ci muovevamo senza mai prenderci dentro e senza fare ovviamente rumore. Quindi alle volte devo dire che la gente al di là del vetro si diverte guardandomi, probabilmente anche altri, sicuramente anche altri colleghi lo fanno, per cui diciamo è un film nel film. Cosa amerà di più nel film il pubblico? Intanto che sia uscito il film, perché secondo me One Piece Red è molto bello, è molto ricco, com'è molto ricco One Piece. A me quello che affascina tantissimo è proprio già solo il colore, l'uso del colore, la ricchezza delle immagini, il fatto che ci siano delle bellissime canzoni, sono veramente molto belle, molto coinvolgenti. E poi il fatto che si è uscito, noi siamo un po' in ritardo per quanto riguarda la serie anime che passa in televisione, e quindi c'è un po' una sorta di scalpitamento del pubblico affezionato, per cui quando ci sono queste occasioni di vedere qualcosa di così importante, di così ricco, veramente c'è una grande risposta. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e vi aspettiamo al cinema con One Piece Red. A presto!